C'erano altre vie, c'erano altri modi, ho sempre pensato. Io ho bisogno di capire chi era lei prima di diventare Eichmann. Cosa vuole sentirmi dire? Che quando Himmler mi ha dato il fascicolo su Auschwitz abbiamo brindato? No, Frau Arendt, non l'abbiamo fatto. Ma dove comincia e perché comincia il male? Ci sarà un momento preciso, no? Tutto ha un inizio. Quell'attimo preciso in cui si passa dal nulla al qualcosa. È questo che io cerco da lei.